Si nota una grande attenzione alla figura di Cristo. Perché è più vicino a lui? È il 2012 e noi scriviamo questa data perché 2012 anni fa è nato un uomo in Palestina. Partendo paradossalmente dal presupposto che Gesù fosse solamente un uomo, dobbiamo riconoscere che è stato l'uomo più straordinario della storia. Un uomo che ha creato una religione, ma non quando è in vita, bensì da morto. Perché durante la sua esistenza non c'era nessuna chiesa cristiana. Gesù di Nazareth muore in maniera ignominiosa, in croce.